Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno 600.000 bambini muoiono ogni anno per l'inquinamento dell'aria. Nell'Unione Europea l'inquinamento atmosferico provoca oltre 400.000 morti all'anno. E a costi stimati tra i 330 e i 940 miliardi di euro. Immaginate cosa si potrebbe fare con cifre del genere. Sono tra il 2 e il 6% del prodotto interno lordo di tutta la comunità europea. In Italia i morti per inquinamento sono 60.000 all'anno. E i costi collegati alla salute derivati dall'inquinamento dell'aria, stime del 2010 probabilmente oggi sono superiori, sono tra i 47 e i 142 miliardi di euro. Quindi cifre immense. Per continuare a tenervi alto il morale, la situazione peggiore è quella della pianura padana. Questo non solo e non tanto perché noi siamo cattivi, ma anche per la situazione aerografica della pianura padana, che è stretta tra le Alpi e l'Appennino e ha pochissimo vento. Come sapete tutti quelli che vivono a Milano, a Milano una giornata col vento è un evento. Scusate il gioco di parole. Secondo il rapporto della qualità dell'aria dell'Agenzia dell'Unione Europea dello scorso ottobre, ve la faccio breve, in sostanza, in nord Italia, cioè la pianura padana, è il record come livelli di inquinamento dell'aria. E anche Milano, insomma, non è messa benissimo come sforamento dei livelli di particolati, di PM10, di biossido di azoto, eccetera. Bisogna dire, ad onor del vero, che sono anche scesi molto i livelli rispetto a una volta. Si sono fatti dei progressi notevoli rispetto all'inizio degli anni 2000. Però ancora le percentuali sono altissime. Questo tanto per avere idea di che cosa stiamo parlando. Adesso do la parola a Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR e noto divulgatore scientifico, che ci spiegherà cosa sono le polveri sottili, quali sono le principali fonti di inquinamento da cui nascono le polveri sottili. Dov'è? Dov'è? Buonasera a tutti. Grazie del gentile invito a Jacopo, di A People for Planet. Io mi occupo di divulgazione scientifica, sono un chimico fisico e quindi, almeno in questa circostanza, sto proprio nel mio. Vi parlerò per i prossimi dieci minuti del motivo per cui abbiamo legittime preoccupazioni dovute al fatto che la circolazione dei veicoli nelle aree urbane rappresenta la più grande guerra che si sta combattendo sul pianeta. Prima dicevamo 59.000 decessi, 60.000 decessi, questo è un dato ufficiale, non è una pericolosa associazione di ecoterroristi o neanche un gruppo partigiano di ecologisti. No, no, è l'ente certificatore, l'ente europeo che si occupa di monitorare la situazione, la qualità delle acque, dei cibi, dell'aria, che ha detto che non solo nell'Italia l'incidenza è la massima in tutta Europa, ma che apriranno una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia a causa dello sporamento sistematico di tutti quanti i parametri di sicurezza. Allora, io mi concentrerò su un argomento che forse è quello meno conosciuto, ma è anche quello più preoccupante, le polveri sottili. Che cos'è una polvere sottile? Qual è la definizione di polvere sottile? Vi preannuncio, dirò queste tre cose. Che cos'è una polvere sottile? Da che cosa è prodotto e che cosa comporta sul nostro organismo? Allora, le polveri sottili, come dice il termine di uso comune, è una polvere che ha i granuli di dimensioni al di sotto di una certa soglia. Avrete sentito parlare sicuramente dei PM10, PM5, PM2,5. Che vuol dire PM? Facciamo un attimo, un minuto di didattica. PM significa polvere micrometrica. Micrometrica in fisica significa un milionesimo, riferito a un milionesimo di metro. Se dividiamo un millimetro, che è la millesima parte, per altre mille volte abbiamo proprio un milionesimo. Quindi significa che dei polveri, stiamo parlando, che hanno dei granuli della dimensione tipica del millesimo di millimetro. Dieci millesimi di millimetro è PM10, cinque millesimi di millimetro è PM5 e così via. Secondo punto, da che cosa sono prodotti queste polveri sottili? Allora, le polveri sottili sono prodotte, ho un po' di aggeggi, di carabattole come quelle che sono solito portarmi appresso. Io farei una cosa però, prenderei un cavalletto, sostituirei il microfono perché ho necessità di avere le mani libere per farvi vedere in pratica di che cosa sto parlando. Vediamo se riesco ad inserirlo al posto di questo, oppure se mi potete aprire l'altro microfono, questo al posto di quello che sto tenendo gelato. Vabbè, per adesso vado avanti. Adesso ci mettiamo all'archetto? Mentre parlo, allora, qual è il principale veicolo di produzione delle polveri sottili? Quindi, come saprete probabilmente, nei motori a combustione interna è il particolato carbonioso, cioè tutto quanto quello che viene prodotto durante la combustione. Grazie tante. Abbiamo già fatto il cambio? Sì, perfetto. Grazie. Durante la combustione della benzina, del metano, del gasolio, che alimenta appunto i motori a combustione interna, quello è il particolato carbonioso e viene emesso direttamente dalla marmitta perché le marmitte catalitiche servono a distruggere una parte, almeno delle sostanze tossiche, che vengono emesse in forma gassosa, non in forma solida, perché stiamo parlando di polveri solide. Quella è la prima fonte. Seconda fonte, qual è? Ve lo faccio vedere in pratica. Come funziona un'automobile, diciamo schematicamente? In questa maniera c'è qui il cilindro all'interno della camera di scoppio che si muove di moto lineare alternativo e deve essere convertito invece in un moto circolare continuato, che è quello delle ruote. Per fare questo gli ingegneri riconosceranno il sistema della biella e della manovella. Sentite? Sentite che frastuono che fa? Perché? Perché crea vibrazioni, perché crea attriti. E questi attriti producono per frizione delle polveri sottili di natura metallica. Solo per farvi vedere la differenza, questo invece è una macchina elettrica. Il motore elettrico è un motore rotativo, le ruote sono attaccate in presa diretta al motore rotativo e quindi non solo non emettono polveri a causa della combustione del carburante che non hanno, ma neanche ne emettono per frizione degli organi meccanici. Non è finito qua. Vi faccio vedere delle altre cose che possono essere di vostro interesse e curiosità. Questo riconoscerete è la pasticca di un freno. Lo vedete qua? È consumata per metà. Non ne potevo portare troppe, quindi ne ho preso una consumata per metà. È circa un centimetro lo spessore iniziale. Andate in giro per la città, arrivate al semaforo, attraverso un pedone, cosa succede? Andate a frenare. La frenata cosa comporta? Il rallentamento del mezzo, in che modo? Trasferendo l'energia del movimento della macchina nel surriscaldamento di questa piastra, che quindi si consuma per attrito. Quando finisce la piastra, quando un centimetro intero di una placca di metallo viene convertito in polvere, questa polvere dove è andata a finire? Sulle strade e parzialmente nei nostri polmoni, naturalmente. Vi faccio vedere una cosa, non voglio farla troppo lunga, ho portato diversi... Sì, questa ve la faccio vedere perché può essere utile per la vostra conoscenza. C'è un metodo alternativo per frenare le auto? Che non comporti l'attrito meccanico, fisico, tra una piastra di metallo e un disco di metallo che ruota al suo interno? Sì c'è, la fisica l'ha scoperto circa 200 anni fa. Guardate, questo è un tubo di rame. Io metto dentro una pallina, adesso chi riesce a vederla bene, altrimenti facciamo così in maniera che si sente il suono. Questa è una pallina di plastica che cade naturalmente per gravità. Se sostituisco la pallina di plastica con una pallina magnetica, che ho portato qui per la bisogna, che la pallina sia magnetica lo vedete dalla fatica che sto facendo ad estrarla, visto che avevo tutti quanti componenti ferrosi intorno. Il rame non viene attirato dalla pallina magnetica, ciò nonostante ha questo effetto. Riuscire a vedere? La pallina va giù al rallentatore. Ve la faccio sentire con il colpo finale che dà. Ho fatto uno scasso, una fessura. Ecco, è arrivata a destinazione. Ha impiegato 10 secondi. Perché questo? Non la facciamo troppo lunga. Perché questa è la frenata magnetica. È la frenata magnetica che comporta l'interazione tra un metallo tipo il rame ed un magnete che non è di carattere fisico, non è di carattere meccanico, ma è mediato proprio dal campo magnetico. Perché questo discorso? Perché significa che in questo caso non si produce particolato. I freni delle macchine elettriche sono freni rigenerativi. Questa energia, che non è dissipata sotto forma di calore, può essere riaccumulata all'interno delle batterie e quindi una macchina elettrica ideale converte periodicamente l'energia di movimento in energia elettrica. Bene. Questo per presentarvi le polveri sottili. Ma vediamole un attimo queste polveri sottili. Fatemi trovare. Ecco qua. Le polveri sottili ve le ho presentate teoricamente, adesso le vediamo in pratica. Qua dentro c'è una polvere. Non abbiate paura, a parte che è chiusa, poi non è una vera polvere sottile. Questa è talco colorato di nero. Però ha tutte quante le caratteristiche idonee per vedere le proprietà delle polveri sottili. Allora, agito il barattolo. Immaginiamo la polvere si deposita sulla strada, passa un mezzo pesante, la solleva. Vedete, dopo un po' di tempo si è creata una nebbiolina, la polvere si deposita sul fondo. Quindi a questo punto io potrei mettere il mio bel nasone dentro il barattolo, aspirare a pieni polmoni e non ne avrei nessun danno. È così proprio? Vediamolo. Questo è un laser. Questo è un laser comunissimo di quelli che vengono per strada. Il laser voi non lo potete vedere. Vedete soltanto la macchiolina lì. Perché? Perché la luce è visibile soltanto se arriva direttamente negli occhi. Una luce che ci passi accanto noi non riusciamo a vederla. A meno che nel suo percorso non ci sia qualche cosa che la rifletta verso i nostri occhi. Vediamo se questo è il caso. Riprendo, rifaccio la stessa cosa di prima. Ho agitato, la nebbiolina si è depositata, passo il laser. Riuscite a vedere questo filamento? Il filamento è la testimonianza che invece ci sono particelle in sospensione. Ci sono particelle che persistono, che perdurano per lunghi periodi di tempo. Quindi una volta che è passato il mezzo pesante, non siete tranquilli. Volevo dire a Jacopo, guarda Jacopo che non so dove sia adesso. Se non ti mettono le panchine nella stazione a Bologna dell'alta velocità, è un vantaggio per la salute perché io vorrei proprio sapere che cosa c'è là sotto quando arriva un treno in velocità che frena. Quante polveri si sollevano e di che natura siano queste polveri. Concludo, perché il tempo è poco, dicendo va bene, abbiamo capito che cosa sono le polveri, da che cosa sono prodotte, perché si chiamano così, ma che ce ne importa? Ci importa per due motivi. Vogliamo essere cinici? A Roma si dice chi muore giace, chi vive si dà pace. Abbiamo 50.000 vittime per patologie legate all'inalazione delle polveri sottili? Pazienza. Vogliamo essere ancora più cinici? Andiamo a vedere economicamente quanto costa questo. A fronte di ogni decesso a causa dell'inalazione della polvere sottile, del fatto che noi, tutti quanti noi, siamo esposti ad un ambiente malsano e badate, c'è una differenza sostanziale tra l'aria, il cibo e l'acqua. L'acqua te la puoi scegliere. Se l'acqua del rubinetto non ti piace, ti compri l'acqua minerale. Se il cibo non ti convince perché temi che le verdure vengano dalla terra del fuoco, perché gli animali macellati sono stati alimentati in maniera impropria, beh, ti compri il cibo biologico. L'aria non te la scegli. L'aria che ti respira è quella che ti circonda. Non puoi farci niente. Sei inerme. Per questo è così importante. Ebbene, a fronte di ogni decesso ci sono dieci nuovi casi di malati cronici. Malati cronici significa che non è una malattia acuta. Tu non è che ti ammali e muori. Tu ti ammali e continui a soffrire, a languire, sviluppi delle patologie e sei a carico del sistema nazionale, del sistema sanitario nazionale. Infatti, se sapete, più del 50% del bilancio di ogni regione, perché appannaggio della regione, la sanità, è proprio devoluta in spese sanitarie. Una frazione consistente a causa delle patologie. Delle patologie dovute all'inquinamento generale ed in particolare dell'aria, ormai cronicizzate. Che cosa ci fa la polvere sottile? Ve lo faccio vedere. Le vendiamo le palline. A me piace la semplicità. Avrei potuto stupirvi? Avrei potuto portare? No. Il bello è quando si può spiegare con una spugna e due palline. Questa è la comunicazione più efficace. Guardate. Questo che cos'è? Una spugna? No. È il mio alveolo polmonare. I polmoni all'interno sono dei sacchi ricoperti da cellule spugnose come queste, gli alveoli polmonari appunto. Cosa succede se all'interno degli polmoni vengono aspirati dei granuli di polvere? Perché la polvere esiste, il polviscolo c'è in atmosfera, ma è polviscolo particolare, di grana grossa, perché in natura non esistono le polveri sottili. Le polveri sottili sono il frutto di un grande rilascio di energia che ha trasformato la materia dal suo stato solido in uno stato finemente suddiviso. Queste fonti di energia, la temperatura che si raggiunge all'interno di un motore a scoppio, non c'è in natura, solo durante le eruzioni vulcaniche. Infatti anche là si producono polveri sottili, ma sono eventi accidentali e circoscritti. Ebbene, se una particella riesce a penetrare nei polmoni, ammettiamo sia di grana grossa, va a finire, ecco qua, sull'alveolo polmonare. Ma non riesce a penetrare all'interno, galleggia. Siccome ci sono delle cellule ciliate, cosiddette, nei polmoni, questo viene portato via e viene espettorato. Se invece la particella è molto piccola, qualcuno non la vedrà probabilmente, ma seguirà comunque il ragionamento, questa particella è una particella tipo, facciamo conto, PM2-5. Arriva all'interno dell'alveolo polmonare, ma questa volta, siccome l'alveolo è spugnoso, penetra all'interno. La particella non c'è più. Non c'è più, è stata inglobata, è stata fagocitata dall'alveolo polmonare. L'alveolo polmonare vorrebbe soltanto gas, non vorrebbe particelle solide. Non sa come comportarsi. Perché sono così virulente? Perché sono così pericolose? Perché il nostro organismo, che è stato plasmato dalla natura in milioni di anni, come ci insegna Darwin, non sa che pesci pigliare nei confronti di queste polveri sottili. La particella di polvere sottile penetra nell'alveolo, ma da quest'altra parte che cosa c'è? Il flusso sanguigno, il torrente ematico. La particella quindi trapassa e esce da quest'altra parte. Eccola qui. La particella che è entrata da una parte e è uscita. E a questo punto se ne va in giro, se ne va a spasso. Siccome il sangue irrora tutto il corpo, arriva in ogni distretto corporeo questa particella. Quali sono le conseguenze? E qui concludo. Dio solo lo sa. Siamo all'inizio, siamo ai primordi di questi studi. Una cosa però è certa. Che a seconda della natura chimica e della dimensione e dell'organo con cui interferisce, provoca delle conseguenze che in alcuni casi, almeno, sono statisticamente, epidemiologicamente accertate. Ad esempio, sulla rivista Lancet, forse la più prestigiosa rivista medica nel 2017, c'è stato uno studio epidemiologico che testimonia che soggetti che si trovino in un ambiente inquinato laddove le fonti di emissioni di polveri sottili sono particolarmente intense, ha una probabilità di contrarre le malattie neurodegenerative, Parkinson e Alzheimer con una probabilità doppia. Cioè significa che alcune di queste particelle arrivano nel cervello. E lì interagiscono, a seconda della chimica, a seconda della risposta immunitaria, in maniera differente. Però appunto è un grande interrogativo. Noi che sempre predichiamo, noi scienziati per l'ambiente, che deve vigere il principio di precauzione, ma è come in questo caso, in cui sappiamo che queste particelle sono molto dannose, dovremmo essere cauti e dovremmo chiedere, richiedere fortemente, con istanza, con sollecitudine, che si faccia qualcosa per cambiare la situazione. Perché qui nessuno si può chiamare fuori, siamo tutti quanti coinvolti. Allora voglio dire a Jacopo, siamo al primo anno, festeggiamo, spegnerai la prima candelina, beh, mi viene in mente la massima di Mao Tse Tung, questo è sicuramente un piccolo passo, ma ogni grande marcia comincia con un piccolo passo. Grazie, è stato molto istruttivo, se vuoi puoi anche restare qua così, visto che disponiamo di sedie, possiamo anche sfruttarle. Bene, adesso ne sappiamo di più, le polvere sottili, ma una cosa che molti di noi hanno certamente sperimentato, vivendo a Milano, è che l'aria, certe volte, anche se non la vediamo, puzza. Allora volevo chiamare Anita Panizza, cittadina di Milano e madre dei due bambini, che ha sentito molta puzza in un'occasione particolare poco tempo fa. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sì, ho sentito questa puzza fortissima che probabilmente molti di voi avranno sentito in occasione dei due incendi divampati nelle discariche di Quartogiaro e poi Novate Milanese. era, se non ricordo male, metà ottobre. Io, sì, vivo in zona fiera, quindi City Life, Monte Rosa, da quelle parti là e come tutte le mattine dovevo, mi sono alzata presto, alle sette e mezza dovevo svegliare i miei due bambini di un anno e mezzo e tre anni e mezzo. La destinazione erano la scuola materna e l'asilo nido. il programma, ero da sola in casa quel giorno perché mio marito era in trasferta a Roma e il programma sarebbe stato quello di fare una passeggiata attraverso il parco di City Life e arrivare appunto alle scuole che erano, insomma, da quelle parti. Ho aperto la finestra per cambiare l'aria e sono stata investita da un odore francamente che non avevo mai sentito prima in vita mia. vivo a Milano da 17 anni e sono, ero e sono consapevole poi dopo le spiegazioni del professor Albertini ancora di più oggi adesso della scarsa qualità dell'aria ma provengo da Torino per cui la situazione ahimè non è migliore di Milano forse addirittura è peggiore però questa puzza francamente non l'avevo mai sentita era proprio un odore acre di plastica bruciata mi sono spaventato ho chiuso immediatamente la finestra perché cambiare l'aria voleva dire far entrare ovviamente questo odore molto fastidioso che mi ha preso subito gli occhi la gola e il naso ho svegliato i bambini e nel frattempo siccome lavoro in una redazione giornalistica mi sono affrettata a controllare con lo smartphone le ultime notizie perché volevo capire che cosa fosse successo sapevo che la sera prima o due sere prima o due notti prima era divampato un incendio ho appreso proprio in quel momento la mattina a prezzo che ne era appunto divampato un altro ma non c'erano altre informazioni sulla natura appunto delle sostanze disperse nell'aria sulla loro pericolosità e appunto sulla situazione in generale cercavo frettolosamente le notizie sul sito del comune di Milano sul sito dell'ARPA e nel frattempo ho deciso di portare i bambini a scuola in macchina trasbordi veloci e niente ovviamente nessuna passeggiata all'aperto mentre ero in macchina guidavo verso le scuole mi guardavo intorno sono passata sotto le torri di City Life e c'era una una cappa di foschia di un colore stranissimo perché era violaceo quasi violaceo non era la solita foschia mattutina e vedevo intorno a me persone che andavano a spasso con il cane si fumavano una sigaretta andavano in bicicletta e mi chiedevo come potessero stare fuori io ero sinceramente molto preoccupata non sapendo che cosa stessimo respirando avendo due bambini piccoli che penso siano più sensibili più esposti a delle sostanze nocive appunto sono arrivata a destinazione mi sono confrontata con le educatrici e gli altri genitori in una scuola e poi nell'altra quella mattina erano previste delle uscite al parco perché insomma in alcuni giorni della settimana si fanno le uscite ho pregato le insomma le responsabili delle scuole di evitare le uscite e parlando con altri genitori mi sono accorta che alcuni erano più informati altri per nulla e tutti comunque si chiedevano a cosa fosse dovuta questa puzza per farvela breve questa cosa è andata avanti per tre giorni tre giorni durante i quali dal lavoro ho cercato notizie approfondimenti sulla situazione dell'aria quello che ci veniva detto era che nel frattempo a scopo precauzionale si dovevano tenere chiuse le finestre e evitare di sostare all'aria aperta e che dai primi rilievi effettuati non c'erano sostanze nocive superiori diciamo ai limiti nell'aria pur persistendo questo fortissimo odore di plastica bruciata ora io non sono un'esperta della fisica delle particelle eccetera però mi chiedo se sento puzza e anzi lo chiedo al professor Albertini se sento puzza di plastica bruciata ci saranno delle particelle di plastica bruciata nell'aria perché non sono riuscita ad accettare in quei tre giorni comunque le rassicurazioni che pur arrivavano con un po' di ritardo dalle istituzioni dopo dall'arpa poi è arrivata diciamo la conclusione del rilievo riguardante l'aria e anche quella è stata diciamo divulgata con un tono piuttosto rassicurante perché poi le misurazioni ho appreso in quel momento hanno bisogno di un certo numero di tempo per essere completate e per cui poi cosa è successo che è arrivato il vento per fortuna ha portato via la puzza i risultati sono arrivati dopo qualche giorno forse ci siamo dimenticati un po' tutti di quello che era successo perché abbiamo ricominciato a respirare diciamo un pochino meglio ma è benissimo e ancora oggi mi chiedo che cosa abbiamo respirato veramente questa è solo una piccola testimonianza di una madre che veramente si chiede come sia possibile far respirare certe cose soprattutto ai bambini piccoli questo è quanto insomma grazie Anita ci sono anche dei cittadini che davanti a questa situazione hanno deciso di rimboccarsi le maniche di fare qualcosa per esempio contribuire a misurare l'inquinamento attraverso un'operazione di scienza partecipata cioè coinvolgere i cittadini per misurare e rilevare la quantità di biossido di azoto è un'iniziativa che ha preso l'associazione cittadini per l'area ONLUS e quindi chiamo Anna Gerometta presidente dell'associazione a spiegarci questa iniziativa ho bisogno del microfono sì buonasera io ho visto che appariva una presentazione innanzitutto vorrei dire che la vorrei portare in tribunale noi abbiamo non è uno scherzo che cosa ho fatto di male no non è uno scherzo noi abbiamo impugnato per il secondo anno di seguito il piano della qualità dell'aria della regione Lombardia il 12 di marzo abbiamo l'udienza e quindi avere qualcuno che non la posso portare perché i giudici non lo permetterebbero mai ma avere qualcuno mi ha dato qualche idea innanzitutto ma poi avere qualcuno che in modo così efficace spiega il problema sarebbe veramente molto utile in una situazione in cui effettivamente devi far capire come l'istituzione che dovrebbe difenderti in realtà non sta agendo nel modo più adatto allora noi effettivamente siamo cittadini abbiamo diciamo una rete che si occupa di qualità dell'aria e interagiamo con delle associazioni europee in particolare con l'European Environment Bureau e Transport and Environment che sono due associazioni a Bruxelles che raggruppano un po' le associazioni che si occupano di qualità dell'aria questo è un grafico dell'ARPA Lombardia che mostra i livelli di biossido di azoto e voi vedete che la diciamo la linea tratteggiata in alto è quella del biossido di azoto a Milano e voi vedete che è circa direi almeno il 50% superiore a quello che dovrebbe essere il limite di legge il limite di legge è quella linea rossa se si può passare alla successiva nel 2015 un gruppo di epidemiologi e ricercatori di tutta Italia hanno fatto un progetto che si chiamava Vias e hanno cominciato a valutare qual è l'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico sulla popolazione provincia per provincia e su Milano è venuto fuori che il biossido di azoto causa per mancato rispetto del limite dell'organizzazione mondiale della sanità 1651 morti all'anno allora noi abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa passiamo alla prossima sapevamo che il biossido di azoto deriva principalmente dal traffico e deriva e arriva e quindi i livelli sono molto elevati in città passiamo alla prossima abbiamo deciso di coinvolgere i cittadini e come l'abbiamo fatto abbiamo diciamo attivato i cittadini chiedendo loro di misurare con noi con una piccola fialetta che si chiama campionatore passivo che viene utilizzato dalle ARPA dal CNR da tutti i ricercatori e abbiamo chiesto loro seguendo un protocollo aiutati dai chimici dell'atmosfera e da un dipartimento a misurare la qualità dell'aria a Milano l'abbiamo fatto il primo anno a Milano con 200 persone secondo anno l'abbiamo rifatto con 300 persone a Milano 300 a Brescia e 200 a Roma e quindi per due anni di seguito abbiamo monitorato Milano scoprendo che la grandissima quantità dei campionatori passivi erano fortemente fuori legge sia su base mensile che su base annuale e poi possiamo passare alla prossima abbiamo coinvolto gli epidemiologi appunto e gli epidemiologi hanno creato dai dati dei nostri cittadini un'altra mappa che si chiama l'URF che ha sostanzialmente diciamo sparso le rilevazioni del nostro biossido di azoto sull'area di Milano stimando che ogni anno solo per la violazione del limite di legge quindi dei 40 microgrammi a Milano muoiono 594 persone prematuramente ha detto benissimo il professor Reprima che a fronte di quei morti poi ci sono tantissime persone ammalate la signora prima parlava del problema dei bambini il biossido di azoto è associato a una riduzione dello sviluppo polmonare dei bambini il biossido di azoto è associato a un problema nello sviluppo cognitivo dei bambini e quindi ha malattie diciamo difetti di apprendimento fatica di apprendimento quindi un vero danno per le nuove generazioni ha fatto questo devo dire il comune di Milano ci ha dato la grandissima soddisfazione venti giorni dopo il nostro annuncio e i dati che avevamo presentato in comune di annunciare l'istituzione di area B che è una zona traffico limitato che poi spiegherà all'assessore Granelli in che cosa consiste passiamo alla prossima abbiamo anche fatto una misura del particolato a settembre con una ciclostaffetta coinvolgendo i cittadini e anche lì abbiamo avuto purtroppo dei risultati abbastanza terribili perché in una grande parte della città di Milano abbiamo avuto livelli molto molto elevati insomma cerchiamo di coinvolgere dei cittadini nel creare dati scientifici che possono convincere gli amministratori oltre che gli stessi cittadini che la situazione va affrontata e che ognuno può dare il proprio contributo quindi il cittadino può comportarsi in un modo diverso l'amministratore può prendere misure perché questo inquinamento migliori l'ultima cosa che abbiamo fatto passiamo all'altra slide abbiamo sempre sulla base dei nostri campionatori passivi chiesto a dei modellisti dell'atmosfera di fare un'analisi di che cosa serve fare a Milano per rientrare almeno nei limiti di legge del biossido di azoto e così a parte aver stimato le quote di responsabilità degli ossidi di azoto a Milano e quindi aver individuato chi serve bloccare passiamo alla prossima abbiamo ottenuto due mappe che sono una mappa attuale che è quella a sinistra che voi vedete bella rossa perché quelli sono i livelli di biossido di azoto dove arriviamo fino a 60 microgrammi come media annua ad una mappa a destra dove in uno scenario che non è realistico abbiamo eliminato tutti i diesel delfino agli euro 5 compresi e a questo punto abbiamo scoperto che facendo questo e riuscendo a sostituire senza inquinare quei veicoli che abbiamo tolto riusciamo a rientrare almeno nel limite di legge quasi dappertutto salvo in quella zona a nord est che vedete dove ci sono le tangenziali passiamo alla prossima slide ecco noi siamo un'associazione cerchiamo di come dire abbiamo crediamo che il contributo dei cittadini sia veramente importante crediamo che fornire dati e lavorare con i ricercatori per effettivamente dimostrare a chi amministra che le politiche diverse sono possibili e sono diciamo necessarie un po' il nostro modo di lavorare oltre a quello di fare causa perché effettivamente io sono un avvocato un'altra persona del nostro direttivo un avvocato e quindi crediamo anche che sia estremamente importante il rispetto delle leggi quindi chi governa deve fare di tutto perché queste leggi che fra l'altro sono leggi europee che prescrivono limiti che devono essere validi in tutta Europa vadano rispettate in primo luogo da chi governa devo dire una cosa che mi fa molta tenerezza perché un anno prima credo della sua scomparsa Dario Fo che con il quale ho avuto un rapporto epistolare ripetuto in 15 anni perché io stessa mi sono mossa come la signora quando aveva i bambini piccoli 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 molto preoccupata a un certo punto gli abbiamo detto vogliamo fare un video che si chiama la rivoluzione dell'aria e lui che credo già stesse abbastanza male mi spiace che purtroppo qui non ce l'abbiamo ma potete trovarlo su youtube la rivoluzione dell'aria il primo spezzone è Dario Fo che ribadisce il diritto di respirare aria pulita l'aria non si sceglie grazie grazie biossido d'azoto dobbiamo fare questo ma che è questo biossido d'azoto mentre mi aggiusto il microfono vi ricordo che tre anni fa ormai c'è stato il famoso diesel gate o Volkswagen gate in cui erano stati truccati i risultati delle prove da banco di alcuni motori diesel allora tutti quanti dissero il gasolio il gasolio inquina vedete il gasolio questa volta non c'entrava niente i biossidi di azoto non sono un prodotto della combustione sono un effetto collaterale della combustione ve lo faccio vedere così nella maniera più semplice l'aria è composta di due gas l'ossigeno al 20% e l'azoto all'80% noi inaliamo e sono gas benefici anzi sono gas indispensabili alla vita perché l'ossigeno è proprio alla base del metabolismo organico e le inaliamo e li riemettiamo questi sono ossigeno e azoto sono due molecole non la faccio difficile costituiti da due atomi sono molecole biatomiche solitamente sono inerti sono in uno stato di crescenza quando entrano all'interno del motore ed è per questo che erano i diesel semplicemente perché il diesel lavora ad una temperatura di esercizio superiore rispetto al benzina infatti il diesel non ha le candele perché va in auto innesco il processo allora che cosa succede e qua in dieci secondi finisce il discorso queste sono due molecole innocue entrano dentro vengono spezzate a causa dell'alta temperatura e vengono emesse nel flusso uscente nella marmitta che cosa succede a quel punto che l'energia non è più disponibile e gli atomi liberi tendono a ricombinarsi e si ricombinano così come possono ad esempio in questa maniera NO2 quello che avevamo visto prima quindi conclusione non se ne esce non è andando ad una categoria di euro superiore che risolviamo il problema ma è abolendo il motore a combustione interna perché laddove c'è combustione c'è alta temperatura e ci sono la produzione di ossidi di azoto ineliminabili perché è l'aria stessa che li produce se posso aggiungere una cosa proprio stasera abbiamo scritto al ministro perché effettivamente aiuti le città a creare le zone a traffico limitato eliminando più possibile le auto a combustione e creando una nuova forma di mobilità e facendo i controlli sui diesel su strada perché noi abbiamo un sacco di diesel che sono omologati dall'Italia che hanno emissioni di ossidi di azoto che sono 20 volte il limite di legge l'Italia è responsabile per fare i controlli e quindi speriamo che si attivino a proposito di zone a traffico limitato chiamerei Marco Granegli l'assessore alla mobilità e l'ambiente del Comune di Milano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti